gran bel lavoro aspettato ma alla fine gran bel lavoro bravissimo gli ultimi giri ero in c***o tutt'anno abbiamo visto ho detto ho riuscito a fare i cambi di direzione proprio di così non posso chiedere ma invece i primi giri non avevo grid davanti davanti anche un po dietro ma davanti non avevo fini per niente come la inserivo tutte le volte tipo la sinistra la mettevo dentro davanti chiudeva sempre un po tipo la 6 il tramonto tutte le cure dove freni che sei un po piegato comunque dove sei che il dietro potrebbe spingermi chiudeva la macchina però in gara c'è sempre meno grid quindi magari è per quello che mi chiudeva poi dopo non riuscivo non riuscivo ho provato non riuscivo però alla fine mira ha avuto questo problema ha detto che anche lui non è la greta niente alla tre lui ha fatto rischi dei saldi grossi però buona un bel rientro no cavolo si ma se non venerdì che insomma ero un po come venerdì l'ho detto che l'avevo preso per la gara io se penso a Pomposa settimana scorsa che fa fatica a fare la gara perché a Pomposa dopo il terzo run non si fa più e avevi un sapo male come è stato? la gamba agli ultimi 4 giri faceva male ma perché non riuscivo più a fare i cambi direzioni infatti mi spingevo mi faceva male ma la prima parte dopo fortunatamente li avevo già superati tutti il comune è solo per migliorarlo no? lo sfruttavo dove potevo il motore e lo sfruttavo dopo lì ti metto di fianco non posso resistere però entravo veramente forte anche quando ero dietro recuperato sempre e il resto è stato veramente veramente bravo grazie no grazie a te grazie a te grazie a te è stata veramente una gara della madonna però vedete che mi mancavo ahahah 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 ah 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 ah